Non uscire dai bordi, mucca. Non ci provare. Non farlo. Mucca, qua. Buona, mucca. Ferma. Accuccia. Accuccia. Brava, mucca, brava. No, mucca no. Mucca, mucca no, ti prego. Mucca. Ciao a tutti ragazzi, sono Charlie e benvenuti nel mio nuovo video. Vi chiederete, dove sei? E cos'è questa cosa che ti vortica intorno come se fosse una trota impazzita? Ok, non so da dove mi è uscita. Comunque, dove mi trovo? Sono in una nuova mappa, cioè non so se è nuova, vabbè comunque. È una mappa molto bella e molto interessante che ho scelto perché mi attirava molto il modo di giocarci. Allora, cosa bisogna fare in questa mappa? Innanzitutto si gioca con uno dei nuovi snapshot, ovvero il 14W19A, uno snapshot, una cosa così, non mi ricordo bene, che aggiunge il World Border. Infatti, se io adesso andassi un po' più lontano del World Border, morirei, perché appunto aggiunge questi bordi in Minecraft. Cosa bisogna fare? Noi dobbiamo allargare i World Border facendo gli achievements. Io l'ho già allargato un po', come vedete, per me era solo questo blocco, come vedete adesso è un po' più allargato. Perché è un po' più allargato? Perché ho premuto E, ho fatto l'inventario, il prossimo achievement che dovrò prendere sarà fare legna, ed è quello che farò in questo preciso istante. Ho deciso, guarda, si stanno allargando i bordi, ora è il prossimo, dovrò fare una benchmark. Ho deciso di fare questa serie perché la voglio rendere, diciamo, una serie interattiva. Cosa intendo per serie interattiva? Voglio, praticamente, che voi mi diciate quello che devo fare, ovvero, oltre a fare tutti gli achievements, voglio fare quello che mi direte voi, cioè, più mi dovete dare voi degli obiettivi, e io vedrò se riuscirò a farli, vi darete delle sfide e io vedrò se riuscirò a farle tutte. Spero di sì, lo spero davvero, davvero, davvero tanto. Quindi voi, nei commenti, magari, scrivetemi degli obiettivi da poter raggiungere, costruire una casa in questo punto, costruire una casa così, costruire questo, oppure sconfiggere l'ender drago senza armatura, quello che volete voi, io proverò a fare tutto quello che vi chiedete, e magari mi consigliate anche una bella texture, una bella texture da poter... una bella texture da poter utilizzare. Ok. E' sponata una mucca. Ciao, mucca. Cosa posso fare? Non uscire dai bordi, mucca. Ora, non ci provare, non farlo. Mucca, qua. Buona mucca. Ferma. Accuccia. Accuccia. Bravo, mucca, bravo. No, mucca no. Mucca, mucca no, ti prego. Mucca. Mucca no. Ferma. Non uscire dai bordi. Ti prego, mucca. Resta qui. Mi servi. Ho bisogno di cibo, mucca. Innanzitutto... Togliamo queste foglie. Fa molto alto il bordo. Togliamo queste foglie. Vabbè, mucca muori, dato che ci tieni tanto. E piantiamo questi altri bel berelli qua. E qua. Ok, qual è il prossimo achievements? No. Achievements. Allora, benchmarking fatto. Quindi devo creare la spada. Ok, allora, dovrei farcela. Quindi, facciamoci un po' di stick. Quanti me ne faccio? Penso che così possa bastare. Fatto, sì, dai. Va bene. Mucca, ma è proprio che non vuoi vivere? Cioè, non ti piace la tua vita o qualcosa del genere? Ok, piccone. Fatto. Questo. Fatto. Devo fare la zappa, quindi... Non che mi serva una zappa, ma... Fai, la achievement mi serve. Quindi, ok. Si è allargato parecchio, come vedete, il mio bordo. Si sta ancora allargando. Perfetto. Sbucca, se ti levi, posso provare a vedere cosa c'è nella chest? No, attraverso i bordi non posso vedere quello che c'è. Un'altra gallina! Due galline! Oh mio Dio! No, allora, no. No, 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 no! Fermi tutti. Fermissimi tutti quanti. Dio, devo trovare un modo per tenervi tutti rinchiusi qua, ma mi è difficile. Ok, allora. Qual è il prossimo achievement? Allora, vediamo un po'. Perché sbaglio per un option? Devo farmi del pane. Però mi è difficile farmi del pane. Ah, devo ucciderti. No, vieni qua che devo ucciderti. Perché ho tre spade? Mi sono captata tre spade senza motivo. Ah, devo aver premuto shift, che idiota. Vabbè, tre spade, tanto che di legno si rompe subito. Ok, ho fatto l'invento. In realtà, un altro achievement. Dai, dai. Dai, manca poco alla cesta. Su. Vediamo un po' che cos'altro devo fare. Allora, achievement. Un piccone di... Di pietra, ma non posso. Devo distruggere un mostro. Non posso. Bread to cause with weight. Non posso. Mannaggia alla miseria. Quanti a chi metto sul caso? Vabbè, comunque. Vediamo un po' cosa che potrei fare. L'arco non posso farlo. Devo vedere di fare una cosa del genere. Quindi mettiamo già a fare un po' i semini, però non ho l'acqua. Allora. Spero che la notte non arrivi troppo presto e non spawnino troppo presto delle belve che non voglio che spawnino. Vediamo se riesco, andando giù da questo lato, a trovare... Non so se i world border stanno anche di sotto. Spero di no. Oh, perfetto. Ora minerò un po' di roccia. Così mi posso fare un altro achievement. Levati. Posso farmi un altro achievement. Ma è grave. Cosa sei? Andel. Oddio. È un nuovo materiale. Che figata. Sì, è nuovo. È della Snapshot, sicuramente. Cioè, lo saprei se fosse... No, non l'ho mai incontrato in Minecraft. E vabbè che non gioco quasi mai a vanilla, però non esageriamo. Sicuramente è della Snapshot. Ok, allora. Dovrei farcela a farmi un piccone di... Sì. A meno che io non abbia finito... Tantastico. È proprio una cosa bellissima. Ah, ma non c'è la mia... Alla miseria. Mannaggia, alla miseria. Devo aspettare quindi che crescano questi alberi. Gallina. Potreste rientrare, per favore? Perché vi piace stare lì? No, no, no. Vieni qua. Vieni qua, gallina. No, buona. Buona gallina, buona. Allora, dato che sono un'idiota e ho premuto Shift, posso farmi solo una spada, che non mi serve al momento. Vediamo un po'. Serio? Non posso fare nient'altro di dove aspettare che crescano quegli alberi. No, no, ma io mi scoccio. Sono un'idiota proprio. E il bello è che ho soltanto questo coso di... Non me ne faccio niente. Vabbè, prendiamo un altro seme. Allora, rompiamo un po' di roba qua. Vediamo se riesco a trovare altri semini. Semini, semini. Semini. Ehm, no, non c'è semino. Andatemi nei semini, vi prego. Perché non sono così sfigata da non trovare almeno un semino? Dai, su, semino. E qui, un pochino. Non vorrete mai capire un merito di fame. Vero? Non so quanto tempo ci metteranno a crescere, quindi adesso vediamo di minare un po'. Non so se farvi vedere le parti in cui mino oppure no, perché non sono molto diversi. divertenti a mio parere, però magari a voi piacciono, non lo so. Non lo so, fatemelo sapere nei commenti se volete che tagli queste parti in cui mino. Ah, e comunque volevo ringraziarvi dei 630 iscritti, sì, perché mentre registro siete 630. Ehm, non credevo di raggiungere davvero questo risultato in un mese circa. Oh, cacchio. World Border. Scusi, scusi. Se torno indietro. Ehm, non credevo di raggiungere questo risultato in così poco tempo e ne sono davvero, 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 davvero. Davvero, 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 cominciare. Ehm, quanto ci mettete a crescere? Maledizione. Mannaggia a me che mi sono fatta tre fottutissime spade. Cosa cacchio me ne faccio di tre? Pensandoci... Ehm, posso fare... Questo. E vai! Sì, sono un genio. Ehm... Adesso metto qua tutta la roba, ma poi appena... E dai, ma per un fottutissimo blocco... Oh, vediamo se... Un pig! Come cazzo mi blocco io qua dentro? Che non ho nemmeno... Oh, scusa, non volevo lanciarti. Allora, achievement. Vediamo cosa mi può. Eh, sì. Mi spieghi come lo faccio? Mannaggia, la miseria. Se solo... Non fossi stare così stupida. Eh, se aspetto la notte posso distruggere... Un bel mob, però... Non c'è quanto ci vorrà qui per far notte. E qua ci stanno mettendo troppo tempo a crescere. Dai. Crescete. Pig, vieni qua. Consolami, maialino. Consolami. Ma... Gli NPC possono uscire? Perché... Credo di no. A questo punto. Vedo che rimangono tutti, diciamo, ai bordi. Ma ho notato che le galline hanno questo tipo... Ehm... Non so come dire... Questa tendenza a stare ai bordi. Vabbè, comunque... Aspetto... Oh, in questi bordi è di merda. Che palle, non posso fare nulla. Aspetto un altro po' e poi concludo l'episodio, perché questo è soltanto un episodio di presentazione della serie, per farmi vedere... Già mi piace, sinceramente. Già è divertente. Noto che... Perché comunque è vanilla Minecraft, però aggiunge... Diciamo... È più... Passatemi il termine. Convolgente, perché comunque in vanilla Minecraft... Una volta che ti sei fatto la casa, eccetera, eccetera... Non è che ti viene voglia di farti gli achievement. Invece qua, o li fai o li fai, perché altrimenti... Non puoi andare avanti nel mondo. Ed è... Un bel modo di sfruttare le potenzialità di Minecraft, a mio parere. Quindi mi piace molto questa mappa. E... Oh, uovo! Questo mi servirà. Però non posso conservare la nostra parte, come un idiota. Voglio capire... Cosa... Cosa sta succedendo? Scusatemi. No... Ah, è nato... Sei un albero idiota! Mi hai quasi fatto morire! Sei proprio stupido! Fa un culo! Cioè, mi sei molto utile! Perché... Mi serviva la legna. Però, che cacchio! Di tutti i posti in cui potevi nascere... Cioè, di tutti i momenti in cui potevi nascere, mi nasci proprio addosso! Allora sei stronzo! Sei stronzo forte! E... Penso che... Sì! Lascerò... Una... Per cuocere la carne. Perché... Ho fame adesso. E quindi adesso posso craftarmi il picco... Che palle queste foglie! Ora posso... Ok, mi era sembrato di vedere uno zombie. Posso craftarmi il piccone. Oh, grazie. Il mio adorato piccone. Allora... Così. Non spona una mob? Forse è troppo piccolo lo spazio. Non so. Vai piccone. Perfetto. Ora dovrebbe... Essere abbastanza... Per prendere la cesta. Da che partire la cesta? Mi sono dimenticato. Da qua. Sì! E vai! Gold nugget. Che potrebbero servirmi per fare la mela d'oro. Se non mi sbaglio. Si fa anche con il gold nugget. La... La potato. Non so a cosa mi serve. Quindi praticamente... O... Dovrò... Tipo... Sviluppare il mio mondo da qui. E espanderlo sempre di più. E mi piace davvero molto come idea. Quindi adesso lo finisco qui l'episodio. Perché tanto... Sono già andata piuttosto davanti. Questa cascata mi spaventa. Perché sembrano i... Zombie non lo so. Sarò... Sarò cieca io. Vabbè comunque. Ehm... Mi piace davvero parecchio come... 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 Come mappa. E... Penso la farò fino alla fine. E completerò tutti gli achievements. Quindi... Vi ricordo di scrivermi qualche... Qualche suggerimento nei commenti. Su cosa potrei fare. E' sponato un'altra mucca. Ehm... Il maiale si installa. Ehm... Vi siete tutte incastrate in mezzo ai bordi. Tutto siete idiote. E quindi... Ehm... Ho bisogno di... Però è quello che stavo dicendo. Vuommi rimettere qua la d'orto? Perchè mi faccio questo buco? E fammi piantare. Ehm... Vi ricordo di dirmi qualche... Qualche... Ehm... Obiettivo da poter fare. No, siete troppo vicini. Qualche obiettivo da poter fare. Ehm... Io vedrò di riuscirci. Questa cesta me la posso prendere. Ehm... Penso di sì. Perfetto. Qua. E io vedrò di... Di accontentarvi tutti quanti. Così oltre gli achievements della mappa farò anche i vostri obiettivi. Quindi... Spero che il video vi sia piaciuto. Se la mappa vi piace fatemelo sapere. Ricordatevi di lasciare un mi piace. E... E di iscriver... E da 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 da. E di iscrivervi. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti. Grazie per la visione!